no regà no no regà no vabbè no regà cioè io non posso e lo devo dire per forza io non posso credere a quello che cazzo ho appena visto è un testa coda ragazzi era un testa coda perché stiamo parlando di una partita che vedeva di fronte l'attuale prima in classifica con l'attuale ultima in classifica e guardando la partita secca che cosa avete capito voi che se trovi la squadra che parte in netto svantaggio che se la gioca col cortello in mezzo ai denti ragazzi nulla nulla è impossibile detto questo vi saluto immediatamente ciao è bello a tutti da me perché ho tantissime cose da dirvi in merito ma innanzitutto vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video se volete ovviamente anche il parere del buon fabio non solo su questa partita ma anche ovviamente sulla partita della roma vi invito ad iscrivervi mi raccomando e ad attivare la campanella per non perdervi i miei contenuti più del 40 per cento di voi i miei video li visualizza ma non è iscritto io vi assicuro che tanti contenuti ve li perdete se voi vi iscrivete attivate la campanella cliccando su tutte le notifiche ogni volta che pubblico in tempo reale sul cellulare vi arriva la notifica vi assicuro che non vi perdete più niente tra l'altro domani mattina credo live reaction della roma c'è anche altri due canali youtube comunque che trovate nell'info box oppure compariranno qui durante il video paradossalmente parlando ragazzi a parte che ho sentito tantissimi tifosi del milan dire no stamattina sui social prima della partita ovviamente se andiamo a fa sta sgambatella se andiamo a fa sta partita d'allenamento in vista degli impegni più importanti e onestamente era quello che pensavo anche io devo essere onesto no invece ragazzi la realtà è stata completamente diversa e non è che dici che e ve lo dico in maniera oggettiva non è che dici che la salernitana tu tiri a caso tu go no ragazzi la salernitana ha giocato al calcio la salernitana ha messo e non poco in difficoltà il milan la salernitana da ultima della classe era passata in svantaggio ha continuato a giocare pallone l'aveva ribaltata e oggi devo entrare nel merito dei singoli perché secondo me ragazzi ci sono anche delle responsabilità nei singoli del milan e forse soprattutto su uno ma ve lo dico con calma altro paradosso di questa partita e lo voglio mettere in risalto questo mio modo di pensare ma è abbastanza oggettivo oggi credo che sia stata la partita del milan da inizio stagione con meno indisponibile in assoluto solo due importantissimi due titolari ibrahimovic e kir basta ragazzi paradossalmente il milan soffre di più con quasi tutti gli effettivi a disposizione piuttosto che quando giocavo con 20 indisponibili e anzi se andiamo a guardare il numero dei indisponibili della salernitana numericamente erano molti di più tra cui mi viene in mente ad esempio lo stesso verdi che dobbiamo assolutamente attualmente considerare un calciatore titolare il cambio allenatore ragazzi l'arrivo di nicola la scelta fatta dalla salernitana la come posso dire il voler a tutti i costi con le unghie con i denti provare ad ottenere questa ormai insperata salvezza ha portato la salernitana anche ovviamente con i nuovi acquisti perché c'è da dirlo è oggi la differenza si è vista l'hanno fatta anche i nuovi acquisti ma non solo ovviamente hanno giocato benissimo io se devo guardare la partita secca se faccio finta che non conosce la classifica ragazzi non sembrava una partita tra la prima della classe e l'ultima della classe assolutamente no e non so se siete del mio parere ma credo che ripeto sia abbastanza oggettivo alla salernitana mancavano per dovere di cronaca capezzi culibali fiorillo chiomber ruggeri schiavone stramberg e verdi detto in poche parole ragazzi la partita in realtà il milano l'aveva indirizzata l'aveva indirizzata perché stava è passato subito in vantaggio 3 4 minuti ma non mi ricordo esattamente il minuto messias messias secondo me ragazzi continua ad essere un calciatore particolarmente sottovalutato non più ovviamente dai tifosi del milan tanti tifosi del milan in realtà non lo hanno mai sottovalutato in generale no ha visto come un calciatore te fa sempre la differenza tant'è che pioli una volta fa partiti di dolare io ce l'ho al fantacalcio quindi lo seguo proprio attentamente lo fa sempre subentrà cioè minutaggio glielo concede sempre e il milano passa in vantaggio prima di passare in vantaggio c'era stata una mezza occasione da parte della salernitana e c'è da dirlo è però dal momento in cui passa in vantaggio dopo pochi minuti io devo essere onesto ho pensato sì a sgambata qua finì tanta poco la salernitana potrà fare ben poco contro un milano che subito mette in chiaro le cose e come un cane che piscia sul cespuglio per non so se c'è presente no la territorialità ecco messi assai ha pisciato intorno al cespuglio gli aveva fatto capire la salernitana chi è che comandava detto in altre in altre palle l'alligge della natura ragazzi paradossalmente parlando invece il milan ecco nei singoli il singolo migliore del milan è stato sicuramente leao all'interno della partita migliore in mentale lo esciata raga fosse entrata qua la palla mi sarei alzato pure io un piedi gli avrei fatto un applauso grosso come una casa non so di quante uscita ma la devi essere veramente bravo per fare una cosa del genere poi in generale è sempre stato il più attivo del del milan è quello che ragazzi cresce sempre di più partita dopo partita se vede proprio che a parte che si diverte a giocare al calcio lo avevo già ribadito in un altro contenuto ma è quello a cui riescono le cose difficili in maniera più facile e sono curioso di vederlo quando non ci sarà più ibraimovic quando non ci sarà più girù perché secondo me verranno sostituiti ibraimovic e girù ovviamente quando ci saranno più lui credo che sarà la certezza del milan e probabilmente il vero trascinatore che acquisirà esperienze che trascinerà la squadra secondo me sarà assolutamente lui il mio pure semplice parere personale adesso entriamo nel merito di quel singolo che vi dicevo che ha fatto danni però per il milan perché secondo me li ha fatti punizione del benasera sepe coi polpastrelli e via dicendo bonazzoli rovesciata ragazzi mazzocchi che mette in mezzo megnan è scemane ed è proprio di lui che dobbiamo parlare oggi perché se finora megnan aveva fatto la differenza in positivo per il milan oggi non è stato impeccabile e non solo in occasione del gol del pareggio di bonazzoli anche in occasione di un'altra occasione in cui se non sbaglio è scemane anche in quel caso e oddio chi era forse proprio bonazzoli che fa la rabbona e romagnoli che salva non impeccabile oggi in uscita ci può stare ragazzi io non penso che un tifoso del milan oggi sia incazzato con megnan con tutti i miracoli che ha fatto finora per le prestazioni impeccabili che ha fatto finora faccio un discorso simile a quello che io ho fatto la settimana scorsa con lui patricio con la papera con la cappellata che ha fatto no però sono cose che poi ti vanno a condizionare che ti fanno perde comunque due punti in questo caso no e insomma fa la rovesciata ragazzi miei e la mette e la mette dentro ma il salernitana ragazzi stava giocando all'altezza del milan anzi per alcuni tratti della partita li ho visti proprio spinge tenere il possesso della palla schiacciare il milan nella propria metà campo ragazzi e non è sicuramente una cosa che il milan fa no con una squadra sulla carta è nettamente inferiore e poi la rovesciata di leao assolutamente sì qualche altro squillo spunto da parte del milan l'ennesimo errore di megnan ma poi ragazzi arriva quel colpo di testa di diuricic diuric scusatemi non diuricic sono confuso ragazzi butta la palla in rete dovrebbe essere finita manca veramente poco colpo di testa manco deve saltà è marcantonio arto veramente tanto finita in questo momento col paccio pazzesco da parte della salernitana in ottica salvezza chi l'avrebbe mai detto per loro in punto d'oro per il milano sono due punti persi pesantissimi perché poi rientrano in gioco determinate situazioni e arriva il 2 a 1 e poi praticamente la situazione della salvante rebic su una sponda perfetta e pazzesca da parte dei girucci è da dirlo ma rebic è sempre un gol che altri probabilmente non avrebbero fatto e che consente al milano di limitare i danni però ovviamente ragazzi io non credo che un tifoso del milano possa essere contento di questo pareggio al netto di tutto un incidente di percorso c'è sta però capite bene che stavano primi e poi domani dipenderà ovviamente da quello che che farà l'intero ovviamente mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali profili social di stanco per tutte le iscrizioni contenuti consigliati che cazzo di serie a